Ciao ragazzi e ragazze, il video di oggi è ispirato da una cosa che mi è successa proprio stamattina che è molto curiosa, cioè ho dovuto per la prima volta nella mia vita preparare un assegno, nello specifico un assegno circolare. Ora, ci sono alcune riflessioni che voglio fare a riguardo che magari per chi ha più anni di me e ha più esperienza per questi strumenti finanziari forse sembreranno stupide, in realtà credo che bisogna riflettere in maniera molto molto puntuale e specifica perché quello che è successo a me potrebbe succedere a chiunque e soprattutto della mia generazione o di persone più piccole. Allora, innanzitutto se non fosse stato, dopo mille giri che ho fatto per capire come si faceva per la persona che mi segue il conto in banca e la sua gentilezza e disponibilità, sinceramente forse sarei ancora qua a chiedermi che cosa dovevo fare. Avrei forse potuto cercare su Google? Evidentemente sì, però avrei forse preferito saperlo e quindi qua si apre un'altra riflessione. Non è forse il caso di spingere un'educazione finanziaria più forte da subito, dalle persone più giovani e non che ci ritroviamo a un certo punto della nostra vita ad averne bisogno e quindi a cercare di inventarci, di capire come si fa? E l'ultima riflessione che voglio fare è questa. Se questo vale per l'educazione finanziaria mi metto nei panni di chi per esempio non conosce gli strumenti digitali e ha l'esperienza che io ho avuto con l'assegno oggi, quasi quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, comunque ce l'ha avuta molto spesso con gli strumenti digitali e dico cavolo, forse dovremmo avere un pochino più di pazienza e avere la voglia di alfabetizzare gli altri e di contribuire al loro percorso di formazione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Stop whining!